Lo scudetto di quest'anno è uno scudetto che racconta Napoli in un altro modo. Quello che vinse il Napoli di Maradona era lo scudetto, se vogliamo, del Miracolo, di San Gennaro. Questo è lo scudetto di una città che è in crescita da anni, col suo popolo che non è solo più un popolo etichettato in un certo modo, ma che ha costruito una realtà totalmente diversa, dove la gente arriva da tutto il mondo per visitare la città. E ha una squadra che ha imparato dalle grandi squadre del nord a fare business, e questo bisogna dire grazie dei Laurentiis, e a lanciare il nome del Napoli in tutte le coppie. Ormai il Napoli è una squadra, è una realtà, ma questo è lo scudetto di una squadra diversa, che sa come si fa a vincere, sa cosa bisogna avere per vincere, sa che bisogna avere una solidità economica. Ha dato una lezione a tutte le grandi squadre del nord. La Juventus, in primis proprio la Juventus, grande Napoli.